La serie armonica è l'equazione stessa della vibrazione, è la mappa che illumina il senso di ogni evento sonoro e come tale è un prodotto esclusivo di madre natura. L'uomo l'ha solo svelata e l'ha rivelata a se stesso con tutta la musica che ha percorso nei secoli. La musica vive nell'aria e l'aria è proprio un mondo tridimensionale. Viviamo immersi in un mondo di suoni che ci avvolgono e io ho sempre accettato a fatica di incatenare i suoni in due casse e dare loro una prospettiva con degli artifici. Però questo è stato il modo per comprimerla e proporla in suorogati commerciabili. Oggi sento ancora più vivo il desiderio di liberare i suoni e aprirli ad una realtà tridimensionale. Come se fossero entità che si muovono nello spazio e si trasformano o sveliscono, esattamente come avviene per tutti i suoni nel mondo reale. Se le casse diventano quattro e io che ascolto mi trovo nel mezzo o nelle vicinanze avrò la percezione di un suono che si compone nello spazio invece che giungere a senso unico da una fonte fissa. Degu Joe